La vostra intrusione nel castello di Torre Nuvola è stato un gesto sconsiderato. Avete corso un pericolo enorme e per questo vi sono stati sospesi i poteri magici. Siete state punite abbastanza, ma per me non è mai abbastanza. Per ricordarvi la vostra prodezza, oggi resterete tutto il giorno a scuola per pulire il castello da cima a fondo. Pulire tutto il castello? No, sono scale, corridoi, aule e bagni. Ah beh, allora va bene. Pensavo molto peggio, sinceramente. Dal momento che i vostri poteri magici sono stati sospesi, questi saranno i vostri strumenti di lavoro. Che strano oggetto. Vediamo se il computer può spiegarmi a cosa... Dimenticavo. E non contate nemmeno sulla tecnologia. Ah, questo mi preoccupa. Eh, si vede, la notizia l'ha visibilmente sconvolta. Beh, per lo standard di Tecna si è lasciata andare anche troppo. Lo so, da quando vi conosco perdo facilmente il controllo. Non era una battuta, ma una semplice constatazione. Signorine! Silenzio! Domani esamino il vostro operato. Farete bene a non deludermi. Andate! Guarda, non è difficile usare una scopa. Ti mostro come si fa. Non serve, riesco a comprendere l'uso di questi utensili primitivi. Ne sei sicura? Ma certo! Sei sicura, sicura, sicura di non volere il mio aiuto? Sicura? La situazione è perfettamente sotto controllo, Flora. Oh, forse devo aver sbagliato qualcosa. Allora, adesso lo vuoi in mio aiuto? Uffa, non vedo l'ora di aver finito. Già. Ma faremo molto prima se qualcuno ci aiutasse. Eravamo d'accordo che tu avresti pulito il pavimento. Voi eravate d'accordo. Volete che mi spezzi un unghia? Non devi usare le mani, ma lo spazzolone. Mi verranno i calli. Usa i guanti! La plastica rovina la pelle. Non mi lasci altra scelta. Non è giusto. Non devi fare il lavoro di Stella. Ma lasciala fare. Se ci tiene tanto, io non mi oppongo. Bel colpo, Blue. Che cosa dicevi, Stella? Ce n'è anche per te, Musa. Cos'è successo qui? È passato un uragano? È appena finita una dura battaglia e la sottoscritta ha vinto. Bugiarda. Ho vinto io. Oh, mamma, che disastro. Di questo passo non finiremo mai. No? Credo proprio di no. Sono qui per avvertirvi che stasera a Magix si terrà un concerto a cui parteciperanno i docenti e gli allievi di Alfera. Bene, mi piacciono i concerti. Ma è evidente che voi non ci sarete. Vi servirà tutta la notte per terminare le pulizie. Buon divertimento, ragazze. Se ne sono andati. La scuola così vuota mette un po' a tristezza. Perché non chiediamo ai ragazzi di raggiungerci? Come no? Così se ci scoprono resteremo in punizione all'infinito. A me sembra un'idea magnifica. Potrebbero darci una mano a finire le pulizie, no? Ma questo significa barare. Mm-mm. Griselda ha proibito la magia e la tecnologia. Non ha parlato di aiuti in carne ed ossa. Giusto! E poi, finite le pulizie, potremo fare una bella festa. È una magnifica idea. Non vedo l'ora? Sì! Ben arrivati. Avete fatto in fretta. Beh, quando si tratta di feste, gli specialisti sono sempre pronti a intervenire. Non devono passarla liscia. Le Winx pagheranno per la loro intrusione a Torre Nuvola. Devasteremo quella scuola, sarà un avvertimento. Così le fate impareranno a stare alla larga dal nostro territorio. Scusate, ma perché le detestate tanto? Le fate non sono poi così male. Ma cosa sento? Di chi è questa vocina insulsa? Era solo per dire. Credo che forse dovremmo provare ad andare d'accordo. Ma certo! Avete sentito, ragazzi? Merta vuole stringere amicizia con le fate, poverina. Vorresti avere anche tu le alucce da fatina, vero? Perché non più di quella boccaccia, ragazzina? Ora basta! Che cos'è tutto questo disordine? Non avete un modo migliore per divertirvi? Avanti! Finite di mangiare e ritiratevi immediatamente in camera. E per questa sera niente intervallo ricreativo! Agiremo questa sera, quando le fate e i professori saranno fuori per il concerto. Non è difficile! Si fa così! Senza fana si passa, si asciuga. Senza fana si passa, si asciuga. Ma non doveva essere una festa. Ma certo! Comincerà appena finite le pulizie. Tenete! Ma cosa... Bene! 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 A tempo di musica si lavora meglio! Senza fana si passa, si asciuga. Senza fana si passa, si asciuga. E tutti insieme la noia passerà. E tutti insieme piacevole sarà. E tutti insieme la noia panetta. E' andato bene, no? Puoi dirlo! E in più ho scoperto che il principe Sky è veramente un perfetto uomo di casa E di te, Brandon, che mi dici? Ah, niente! Non c'è niente da dire! Oh, Gia! Quando c'è lui diventi un'altra! Dovresti farti sotto, in questa serata nulla può andare storto! Ehi! Ma non avevi detto che la scuola era deserta? Le Wings! Tu proprio non balli, Tecna! No, non mi piace! È che mi fa sentire a disagio! Beh, allora siamo in due! Mi sento ridicolo! E anche a me piace molto ballare! Ti ricordo che tu sei ridicolo anche da fermo! Non male la ragazza, eh? Meglio di molti altri qui dentro Appena in tempo! Maledizione, ci mancava solo questa! C'è troppa gente! Torniamo a Torre Nuvola! No, sorelle, ho una strana percezione! Creiamo l'incantesimo dei vacuum! I vacuum? Ma perché qui? È stupido! Servono a trovare e immagazzinare le forti energie mistiche! Sento che l'energia che cerchiamo deve essere qui ad Alfea, in un oggetto o in un posto segreto! Certo, non l'abbiamo trovato nell'anello di Solaria, ma deve per forza appartenere alle fate! In fondo la famiglia reale apparteneva all'ordine delle fate e hai avuto una bella trovata! Io ho sempre belle trovate! Il vacuum ci porterà al potere! E' le Wings? Ho già in mente chi penseranno! Il luogo è giusto! Siete pronte, sorelle? Elevat onnum in apa! Ercat sorendum in niere sabbat! Alfea devastati laminet pianto! Sorelle, vi presento il flagello! È un vero peccato che questa festa debba finire! E chi ha detto che deve finire? Noi possiamo andare avanti fino all'alba! Deve sembrare che tutto sia in ordine! Oh! Sbaglio il tuo stomaco pronto! La vuoi mangiare qualcosa? Beh, veramente avrei sete! Servito! Grazie! Un terremoto! Veniva dall'interno! No, veniva da fuori! Forse qualche nostra compagna di scuola ha lasciato la TV accesa e un po' troppo alta! Visto! Che razza di creatura può aver fatto una cosa del genere? Una creatura grossa e pesante! Oh, non l'avrei mai detto, ma sei un genio! Alta almeno due metri e mezzo, ungulata, pesante poco meno di una tonnellata, con un pelo setoloso, probabili corna, l'odore selvatico e sicuramente con più arti! Ora è abbastanza! Brava, Tecno! È passato di qui! Beh, che aspettiamo? Aspettateci! Andiamo! Veniamo anche noi! Restate dove siete, patine! Questa non è roba per voi! Per di qua! Il vacuum indica questa direzione! Si è fermato! Chi ha detto Quack? Ti ha seguito fin qui! Maledetto papero! Fa un po' di luce, Timmy! Agli ordini, capo! È andato di sopra! Niente di niente! Magari è andato via! Forse era solo un animale selvatico! O un esperimento fuggito dal laboratorio di Whiskey! O forse qualcosa è uscito dal cesto della biancheria sporca! Un momento! Non c'è mai stato un muro in questo corridoio! Schifo! Ora ti disintegro! E con quali poteri? Giusto! Andiamo, ce ne è! Per di qua! No! 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 Ma quanto si dimene e quanto sude! Come puzza! Così dovrebbe andare meglio! Brava, Stella! Brava! Favano giare ancora di più! Non provarci mai più, bestione! Adesso, ragazze, potete andare a dormire! Questo lavoretto lo sistemiamo noi! Questo è il genere di festa che piace a me! Attacchiamolo insieme! Tu pensa solo al tuo principe, scoghiero! Chiota, forza, ragazzi, attaccate! Specialisti all'attacco! Questa preda è mia! Guardate, sorelle! Questo ragazzo ha un'energia negativa fortissima, all'altezza di un principe delle teneve! Che cosa ne pensate? Che è solo un mammalucco qualsiasi che ci sta facendo perdere tempo! Forse il ragazzo potrebbe esserci utile, ma non ora! Ci penseremo la prossima volta! E possiamo restare a guardare! Quel mostro li farà a pezzi! Non abbiamo niente per difenderli! Ehi, ragazze! Yuhu! Guardate cosa ho trovato! Forse ho avuto un'idea! Siamo qui! No! Siete tutte pronte? Prontissime! Ora! Certo che è proprio brutto! Ce l'avevo quasi in pugno! Vorrei solo sapere da dove può essere uscita una cosa del genere! Ma questo è il papero di Aisy! Non può essere venuto qui da solo! È illogico! Mamma! Mamma! Questa attrezza è un omaggio della ditta Trix Aras! Andiamo nell'ufficio di Faragonda! Dà la sua sfera cristallina sotto controllo tutte le parti principali della scuola! Ma non è corretto, Bloom! Non possiamo entrare nell'ufficio di Faragonda se lei non c'è! È vero, ha ragione! È contro il regolamento! Sì, ma per il bene nostro e di Alfea dobbiamo scoprire questo mistero! Ci siamo, ragazze! Ora è il momento della verità! C'è qualcun altro qui dentro! Lo sapevo! E ora che si fa? Nascondiamoci tutti! Non c'è nulla! Eppure il vacuum indica proprio qui! Vuol dire che il potere del drago è celato in questa stanza! Andiamo, sorelle! Ora dobbiamo solo devastare tutto e finalmente riusciremo a scoprire dove è nascosto! Noi non ve lo permetteremo! Voi che cosa ci fate qui? No, che cosa ci fate voi? È quello che dovrei chiedere a tutti anch'io! Questo era il mio ufficio fino a qualche ora fa! Lei non ci crederà, ma possiamo spiegare! Beh, allora, grazie di tutto! È stata una serata indimenticabile! Un vero piacere, tesoro! È stato un party memorabile! Oh, sicuro? Ah, mi raccomando! La prossima volta che ho organizzato una festa, non invitatemi! Ciao! Eh, ispettrici Griselda, ricordatemi di scrivere una lettera di apprezzamento al preside Saladin per l'aiuto dato dai suoi allievi Invece, riguardo a voi, care le mie apprendiste streghe prenderò direttamente i provvedimenti con la direttrice Griffin Il vostro atteggiamento è stato inqualificabile! Domani mattina riceverà una mia lettera di biasino Mai ho visto una tale mancanza di rispetto e irresponsabilità Penserà lei a darvi la giusta punizione? Arrivederci, ragazze! Vedremo come ve la caverete! Adesso penserò a voi Ho potuto valutare tutta la situazione e quindi non vi punirò In questo frangente avete dimostrato di sapervela cavare anche senza la magia usando l'intelligenza e la fantasia Quindi ho deciso di restituirvi i poteri La vostra punizione è stata abbastanza Che brave ragazze! Hanno ancora tanta strada e tante difficoltà da superare ma sicuramente impareranno ad essere delle vere fate Domani sarà il giorno della rosa Sono sicura che riusciranno anche loro a sbocciare La vostra punizione è stata abbastanza La vostra punizione è stata abbastanza La vostra punizione è stata abbastanza